Allora, vediamo come si risolve una, che cos'è un'equazione con il valore assoluto e come si risolve. Per esempio, se io avessi x meno 3, tutto il modulo, uguale 7 meno 2x, questa è un'equazione con il valore assoluto, perché è presente proprio una quantità all'interno di un valore assoluto. Allora, per poter risolvere questa equazione dobbiamo fare una considerazione. Riprendiamo un attimino una considerazione. Che cosa vuol dire fare il modulo di un numero? Quindi se devo fare il modulo di più 3, vuol dire renderlo positivo, vuol dire togliergli il segno, renderlo positivo. Quindi se io ho più 3, è già positivo, quindi fare il modulo di più 3 vuol dire lasciare il numero così com'è. Se invece io ho il modulo di meno 3, fare il modulo di meno 3 vuol dire cambiare il segno e quindi renderlo positivo. Quindi in generale, quando io ho il modulo, devo andare ad analizzare quello che c'è dentro il modulo. Perché? Qui cosa ho fatto? Se la quantità è positiva, ho tolto il modulo e ho lasciato lo stesso segno. Se la quantità dentro il modulo è invece negativa, ho tolto il modulo e ho cambiato segno. Quindi se io ho il modulo di x e quindi non so che numero c'è all'interno del modulo, devo proprio fare queste due strade, le considerazioni, e dire se x è maggiore di 0, tolgo il modulo e mantengo lo stesso segno e quindi riscrivo la quantità così com'è. Se invece x è minore di 0, tolgo il modulo e devo cambiare il segno all'interno della quantità che c'è all'interno. Allora, questa considerazione ci permette di risolvere, per esempio, questa equazione. Questa equazione equivale alla risoluzione di due sistemi. Un sistema S1 in cui dirò, se x meno 3 è maggiore ma anche uguale a 0, perché fare la stessa cosa anche per l'uguale a 0, tolgo il modulo e mantengo lo stesso segno. Quindi avrò x meno 3 è uguale a 7 meno 2x. L'equazione diventa così. S2 invece dirò, se la quantità dentro il modulo invece è minore di 0, tolgo il modulo e cambio il segno. Quindi avrò meno x più 3 uguale a 7 meno 2x. Quindi la soluzione di questa equazione sarà l'unione delle due soluzioni. Quindi S dei due sistemi sarà S1 unione S2. Allora risolviamo il primo sistema. Qui avrò x maggiore o uguale di 3. Qui porto il meno 2 a primo membro, quindi avrò 3x uguale a 10. Quindi x uguale a 10 terzi. È accettabile, devo confrontare adesso questo x uguale a 10 terzi, con la condizione x maggiore di 3. È accettabile? Sì, perché è di più di 3. E quindi questa è una prima soluzione. S1 è dato da x uguale a 10 terzi. Quindi vediamo S2. S2 mi viene invece x minore di 3. E poi qui porto a primo membro il meno 2x che diventa x, porto a secondo membro che diventa 4. x uguale a 4 è minore di 3? No, non è accettabile. Questa non è accettabile. Quindi l'unica soluzione della mia equazione col modulo è la prima x uguale a 10 terzi.